Benvenuti al Meto di Telenuova, domani è giovedì 11 dicembre, la chiesa celebra San D'Amaso. Alta pressione che conquista l'Italia con ultime piogge al sud, gelate e notturne al nord, bel tempo con cielo terzo e limpido per tutta la giornata. Al centro più nubi su Abruzzo, Molise e rilievi annessi, anche con possibile piovigine. Al sud nubi diffusi sui settori ionici e appenninici, con piovaschi deboli. Piovaschi possibili anche sul Gargano e Messinese, sole altrove. Temperature gelate e notturne al nord e zone interne del centro, stazionari e le massime. In campagna il flusso di aria fredda tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata, contestualmente al graduale aumento della pressione atmosferica. Il cielo sarà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento, venti moderati da nord-est, mare poco mosso.